L'avviso di deviazione dalla corsia di marcia rileva i contrassegni stradali e prevede la traiettoria del veicolo tramite una telecamera specificatamente designata. In caso di virata del veicolo o di superamento della corsia e di mancata attivazione degli indicatori di direzione, viene emesso un segnale acustico simile al rumore di una sezione stradale dissestata e la spia corsia laterale superata diventa rossa sul quadro della strumentazione per avvertire il conducente. Il sistema si attiva a una velocità di oltre 70 km orari e in caso di rilevamento delle corsie. È possibile attivare questa funzione dallo schermo multifunzione.